Buongiorno, mesi amici. Oggi un progetto mi ha portato una collezione privata degli scatti del fotografo Alexandre Rochenko, oi, la foto esperimentale dei anni 20. Mentre scelgo quale comprare per il mio studio, mi viene in mente di raccontarvi un film che ha fatto la storia del cinema. Il regista Sergei Mikhailovich Eisenstein ha creato in effetti una delle opere cinematografiche più significative tra quelle di propaganda, la correzata Potjomkin. Il film è suddiviso in atti, per l'esattezza sono cinque, che il regista è intitolato Uomini e vermi, Trama sul ponte, Il morto chi ama, La scalinata di Odessa e Una contro tutte. Eisenstein ha raccontato la rivoluzione russa del 1905 e ha voluto narrare i fatti con quell'arte che contraddistingueva il cinema di quegli anni. Se in Francia già si cambiava registro dopo la prima vanguarda impressionista, e chi non ricorda i Jacques de la Belgique del 1915, si passava al cinema più fantastico e metalinguistico, figlio di Leger e di Bignuel, per esempio. In Russia il cinema vive di ideali di rivoluzione e libertà, durante appunto la rivoluzione socialista. I protagonisti sono i membri dell'equipaggio della nave correzata Potjomkin, appunto. Qui nasce la prima rivoluzione interna, quando i marinai, bian su, rassi rifiutano di mangiare carne deperita, fino a preferire la fucilazione. Il climax si raggiunge sulla famosa scalinata di Odessa, una volta attraccati al porto con la corrazzata in possesso dei marinai. Anni dopo, lo stesso Eisenstein avrebbe precisato che aveva scelto proprio quell'episodio, anche per via del grande fascino che la scalinata di Odessa aveva esercitato su di lui, e che egli stesso descrive in questo modo. Fu proprio la scalinata con il suo movimento a suggerire l'idea della scena e a provocare con la sua fuga la fantasia del regista, dando origine a una nuova forma di spirale. Eisenstein parlerà molto dei suoi film, e alla contessa sembra un po' come un padre che non vuole proprio staccarsi di Fiss. Una delle tante considerazioni che farà è Il Pio Tionkin sembra una cronaca di avvenimenti, ma in realtà colpisce come il dramma. Su questo anche la contessa è d'accordo. E questo è uno dei casi in cui rimpiego il cinema muto per l'indiscusso pathos e per la merveillezze colonna sonora extra di Egetique che accompagna tutti gli atti. Beh, forse in Italia il film è famoso grazie a fantozzi e sappiamo bene cosa ne pensa, ma rimane anche qui un simbolo della bellezza dell'arte cinematografia dei anni 20, forse non accettato perché paradigma di quell'élite. Bien, penso di aver scelto la foto per la mia collezione. Bien sûr, la donna sui gradini. Buon soirée, mes chéries.